e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono roid e quella che state vedendo è la mia nuova build per zay cowboy zayn questa build credo si sia capito è basata quasi interamente su oggetti della jacobs e sul danno critico detto ciò se vi interessa vederla direttamente in azione vi lascerò il timestamp qua sotto in descrizione altrimenti direi di partire con la spiegazione e quindi quali sono le combo fondamentali di questa build principalmente sono diciamo tre oggetti in linea molto generale il ramo viola di zayn company man della jacobs e armi jacobs in generale nello specifico partiamo dalle armi vedete che vi ho lasciato un pochino di armi extra abbiamo un assalto due pompa una pistola e cin e quattro cecchini potevo mettere anche altre armi ma ho cercato di utilizzare armi che non vengono spesso utilizzate che magari facevano parte di un qualche evento che potreste aver lì e non avete mai usato per una ragione per l'altra questo è un'ottima build per sfruttarle partiamo quindi dalla becca assalto jacobs il migliore con classica consacrazione doppio doppio danno dopo l'abilità d'azione visto che useremo raviola e cannone in questo caso ho preferito dargli danno gelante per sfruttare al meglio le varie abilità di zayn che vedremo dopo per i pompa come vi dicevo abbiamo due scelte abbiamo un airwalker con i danni elettrici al termine dell'abilità d'azione non ho messo caricatore successivo perché sparo un colpo per volta quindi con caricatore successivo letteralmente dopo due colpi è finito il bonus con invece il danno che ho messo dopo l'abilità d'azione per 10 secondi è sempre attivo nonostante i caricatori che fate fuori l'altro pompa invece è un garcia garcia con cui mi sono trovato bene è più debole dell'ailwalker ma è un'arma che non viene praticamente mai utilizzata e personalmente non l'ho mai utilizzato in vita mia prima di questa build quindi era proprio un'ottima arba da mettere in mezzo per le pistole maggie perché tutti sappiamo che la quickshot fa cagare quindi maggie tutta la vita ci sono sì altre pistole jacobs utili ma io letteralmente non so star senza la maggie tra le varie consecrazioni ho voluto metterne una che non si attivasse con l'abilità d'azione quindi l'uno per cento questo è attiva anche quando ho finito a terra e tutto e nel caso non riuscite a fare un critico questa sarà il vostro miglior modo di tirarvi su o comunque combattere quando le altre armi non potete utilizzarle infine i cecchini come vi dico come vi ho detto ne ho quattro in realtà io ho testato più di otto cecchini diversi anche armi uniche anche cecchini viola normalissimi con un bonus criticoltissimo insomma ho testato tutto quello che si potrà testare dei cecchini jacobs e questi sono quelli con cui mi sono trovato meglio innanzitutto wedding invitation dell'evento di san valentino per chi non lo conoscesse è un cecchino incendiario e il colpo che rimbalza fa danno gelante questo come tutti gli altri cecchini hanno tutti la consacrazione 390 perché è la migliore dovete shottare se con un cecchino non riuscite a shottare un nemico dovete cambiare arma o con tirate un altro critico l'ammazzate però di norma si cambia arma contro un boss il mio consiglio vedrete poi quando proveremo la build sarà di andare di cecchino finché avete il danno appena finisce il danno cambiare subito e passare alle altre armi altri cecchini abbiamo head explosion molto buono molto utile mi è piaciuto abbiamo il nuovissimo disruptor del dlc6 che potrete ottenere da emovora che chi non lo conosce ho già fatto la recensione oltre a fare tantissimi danni strani che possono essere triplicati con un colpo melee eccetera una cosa complicata ignora lo scudo il danno che fate fa danno direttamente alla vita ed è bellissimo e il mio cecchino preferito che è stato anche quello della mia primissima o seconda build crit flock l'ansin 3 per chi non lo conosce i colpi critici fanno partire tre sorte di colpi a ricerca che poi tornano a colpire lo stesso nemico o quelli vicini e fanno altrettanti danni quindi è quello che farà più o meno più danno di tutti per quanto riguarda lo scudo ho un revolter ma un infernal wish va benissimo nel caso non abbiate dlc6 e non abbiate ottenuto il revolter come sempre ha l'effetto della abilità d'azione che rompe lo scudulo attivo eccetera è obbligatorio mod di classe abbiamo un executor executor semplice semplicemente per ogni kill vado a aumentare danno critico e precisione destrezza tutti i bonus che servono con zain god roll con danno colpo critico danno arme danno con army jacobs e 5 punti in quella skill che come vedremo raddoppi i proiettili che spariamo quindi ci servirà sempre per quanto riguarda la granata ho voluto usare una granata che non viene praticamente mai utilizzata nelle build perché in questa build la granata ci serve solo per la consacrazione non peraltro in questo caso alla fine dell'abilitazione danni critici aumentano del 25 per cento la granata non dovreste neanche lanciarla ma se la volete lanciare è un chupas organ che per chi non la conosce similmente allo ionic destructor quando colpisce nemici questa ricerca si attacca i nemici come una sanguisuga va a far danno direttamente agli hp ed ignora lo scudo e in questo caso la chupas organ vi cura anche nel mentre quindi ho detto perché no visto che non abbiamo molti modi di curarci con questa build a parte la classica diciamo abilità di zain questo è un ottimo modo di tenere la vita al massimo specie in mezzo degli effetti elementari infine la reliquia nel caso non l'avete in questo caso pensate magari a fare una deathless aton balm e mettervi tutti urad allora però nel mio caso ho voluto usare un altro elemento del dlc 6 la reliquia company man nello specifico reliquia jacobs che quindi va ad aumentare danno e danno colpo critico jacobs del 50 per cento e la precisione del 50 per cento e ancora una volta non tanto godroll diciamo ma il cdr sull'abilità d'azione è la cosa che mi piaceva di più tutto il resto è venuto insieme sinceramente mi andava bene così quindi per quanto riguarda gli oggetti siamo tutti qua le alternative ve le ho dette se non volete usare l'executor ci sono quasi ogni altra diciamo mod design funziona comunque non c'è problema quindi andiamo a passare alle abilità ramo arancione non l'ho toccato ramo verde c'è un pochino ramo viola ramo blu c'è un po di roba quindi partiamo dal ramo verde ramo verde quello che mi è interessato è stato 5 punti in adrenalina per il cdr che era la cosa che mi interessava di più 5 punti in surgelamento che è l'unica roba che sarà forte dal ramo verde per questo che non sono sceso quando fate colpi critici avete una probabilità di rallentarlo da i bonus al danno gelante che ho sulle consacrazioni delle armi e il fatto che stiamo usando delle jacobs e quindi dovremmo sempre far colpo critico questa abilità vi permetterà di congelare i nemici e i nemici se non saranno già morti potrete andare a colpirli mentre saranno fermi e congelati visto che mi era rimasto poi un punto da mettere a caso la barriera non la utilizzo in questa abil visto che uso le granate e il cannone quindi era inutile prendere la protezione distribuita e quindi ho deciso di metterlo in rigenerazione energia così abbiamo un minimo di rigenerazione energia quando abbiamo lo scudo up semplicemente poi ramo più importante della build ramo viola l'abilità abbiamo classico cannone cannone gelante e cariche aggiuntive che aumentano il danno per quanto riguarda le abilità invece abbiamo tre punti a rinnegato per curarci quando facciamo colpi critici due in deja vu per recuperare un po di colpi con i colpi critici non è obbligatorio rimetterlo potete mettere questi due punti anche in estrema concentrazione sinceramente mi faceva comodo quel farmi tornare indietro dei colpi se dovete fare delle mappe molte lunghe non vi non avete voglia di andare a prendere le casse di munizioni cinque punti di impegno la cosa più importante solita abilità uccisione meno del carnefice che aumenta il danno colpo critico di un 28 per cento che schifo non ci fa e può arrivare a 56 nel caso siate abbastanza veloci a fare due kill abbiamo poi l'arte della guerra che dopo aver attivato un'abilità d'azione il colpo successivo di zain infligge danni aumentati e questo effetto è cumulabile questo vuol dire che se spammate l'abilità fate cinque colpi di abilità e poi sparate avrete un oltre 50 per cento dovrebbe essere un 65 se non erro 75 per cento di danno non è male non è male non vi consiglio di basare il vostro danno solo su questa quindi non mettetevi a spammare cinque colpi di cannone spammarne cinque ancora poi sparare un colpo nascondervi eccetera perché letteralmente perderete il divertimento di giocare a borderlands tre punti in eliminatore per fare in modo che i colpi per fuori nei nemici infliggono danni aumentati nel caso ci sono dei nemici alleneati con questa potete fare dei danni che sono e poi due punti in pura forza di volontà per continuare ad aumentare il tempo di ricarica della nostra abilità d'azione soprattutto si riduce con i colpi critici quindi ancora meglio infine un punto nel nostro caro flint che letteralmente un più 25 per cento di bonus quando mirate quindi a parte di shotgun sempre e sarà sempre attivo infine vediamo il ramo blu ramo blu che va a potenziare il drone ma drone che non useremo allora cinque punti in velocità violenta guadagniamo velocità semplicemente molto utile nel caso bisogna fare una kill e riposizionarsi perfetta e cinque punti slaggio violento allora di base con questa build dovreste fermarvi mirare sparare e poi ripartire però nel caso non volete farlo ci sono gli shotgun e la pistola correte addosso la gente mentre sparate e avrete probabilmente un più 40 più 45 per cento di danno extra da sta skill 5 punti in guerra gelida cambiate arma guadagnate 5 punti guadagnate un 200 per cento di danno gelante sul prossimo colpo quindi se avete quattro cecchini magari vi mettete quattro cecchini nell'inventario sparate cambiate arma sparate cambiate armi ogni volta farete il triplo del danno del previsto molto bene un punto in salvezza per il recupero di energia non serve altro perché con i danni del game 3 per cento è full vita due punti in mano fredda per ricaricare più velocemente le armi e questo punto che è in consegna con drone mi sono accorto adesso è un errore non usiamo il drone quindi non ci serve potete scegliere voi se metterlo in salvezza per curarvi un po di più se magari non siete ancora 65 non giocata mai non vedete che vi curate completamente facendo danno altrimenti sbattetelo in mano fredda così vi ricaricherete le armi ancora più velocemente poi classico punto in furia cieca per attivare tutte le abilità uccisione di zain con l'abilità d'azione come al solito il mio consiglio è fare due abilità d'azione per terra o contro un nemico se ce l'avete vicino e poi iniziate a sparare finché non vi scadono poi 5 punti in gioco sporco più i 5 della mod di classe che abbiamo visto prima vedete che c'è un 140 per cento di possibilità di avere il proiettile aggiuntivo quindi sarà sempre lì dopo aver fatto delle kill avrete sempre doppi colpi dopo la prima kill o dopo il doppio cannone quindi farete sempre il doppio del danno del previsto buona sfortuna non ci interessava perché non abbiamo skill che rimangono attive e infine braccio resto della morte per potenziare tutte le abilità d'azione di zain andiamo quindi a vedere velocemente i gradi guardiano vedete che sono tutti attivi a parte l'ultimo verde che lo devo ancora sbloccare e per quanto riguarda la modalità caos caos 11 classicissima andiamo quindi su antennas per vedere come funziona questa build e come sfruttarla al meglio lo sapevate che il 60 per cento di voi che guarda i miei video non è iscritto al mio canale per voi l'iscrizione può sembrare un piccolo gesto ma per me mi può aiutare a fare molti più video e a farne di molto più interessanti per cui iscrivetevi col bottoncino qui sotto è un piccolo gesto mi aiuta veramente molto ed eccoci arrivati queste saranno le armi con cui partiamo e cercherò di mostrarvele più o meno tutte prima di arrivare da tronte dove poi proveremo il bossing quindi la becca per chi non lo conosce è un'arma ma che dopo una certa distanza proiettile iniziale si divide e aggiunge altri tre proiettili quindi per un totale abbiamo 3-4 proiettili quindi cercate di stare sempre a quella distanza in modo di avere il danno giusto andiamo quindi a pushare due colpi di cannone ricordatevi di switchare l'arma ogni tanto se volete shottare guardate i danni la becca è una delle armi più divertenti di questo gioco secondo me quindi poi ogni tanto fate un colpo di cannone giusto per guardate i milioni di danni che stiamo tirando fuori sta cosa è sbagliata garcia garcia shotta credo si sia capito se sparate veloce spara due colpi è un po' strano come semi automatico però funziona così come pistola poi abbiamo la nostra Maggie Maggie che andremo a provare nella prossima zona ma chi è che non la conosce su via è la migliore pistola del gioco non ci sono non ci sono paragoni andiamo quindi a usare l'abilità per correre più forte e andiamo a sparare a questi polli vedete che quando vengono congelati possiamo andare a sparargli direttamente sul punto critico andiamo quindi a provare nel walker e poi finiremo sui cecchini quindi è un walker questo era il colpo congelante vedete che se fate un colpo critico con il walker diventa tutto molto divertente quindi passiamo ai cecchini partiamo dalla wedding invitation quindi colpo critico vedete che i colpi rimbalzano 14 milioni e applica anche gli effetti elementali grazie all'abilità che abbiamo quindi è ancora meglio l'unico problema dei cecchini è che una volta che siete scesi sotto il 390 di energia non faranno più il danno iniziale ma faranno un terzo del danno quindi in questo caso il mio consiglio è ad andare di Garcia e di Becca scusate che vi ricordo essere semi automatico non è un'arma automatica per concludere il nemico andiamo a provare un altro cecchino andiamo magari con l'explosion magari se trovassimo ecco qua perfetto l'explosion per chi non lo conosce è un cecchino che va a fare dei colpi esplosivi adesso eliminiamo questo nog che purtroppo ha il punto critico dietro la schiena non è facile da uccidere e vediamo di usare di nuovo l'explosion se avete visto centinaia di milioni di danni direi che avete visto bene ad occhio quindi eliminiamo anche questo ultimo nemico perfetto 21 milioni e l'explosion per il mobbing è uno dei migliori dei quattro andiamo quindi a passare al distractor che vi ricordo ancora non colpisce lo scudo colpisce direttamente gli hp il colpo è un po' strano è un po' più lento dei colpi normali però i danni ci sono ci sono e si fanno sentire e rimbalza anche bene devo dire guardate quello dietro guardate i centinaia di milioni di danni che abbiamo fatto quanto è bella questa arma potete sparare anche senza mirare con certi cecchini hanno comunque una precisione immane quindi ci è rimasto come ultimo cecchino da provare il Lansing Threat che proveremo nella prossima zona eccoci quindi arrivati vi ricordo che i proiettili del Lansing Threat prima di andare a ricerca salgono verso l'alto quindi cercate di utilizzarli all'aperto se li utilizzate al chiuso potrebbe succedere che i colpi rimbalzano contro il soffitto e non vengono sfruttati come magari i nemici sotto questi portici quindi direi che abbiamo provato più o meno ogni arma quindi direi di andare direttamente da tronta a vedere quali armi utilizzare partiremo con Becca e poi andremo di cecchini la pistola e lo shotgun non vi consiglio di utilizzarli perché sono sì utilizzabili ma fanno molto meno danno quindi tiriamo dritto andiamo giù da Tront e iniziamo ad andare di Becca cercate di stare alla distanza giusta in modo da colpirlo con tutti e tre i colpi e cercate sempre di colpire il punto critico mi raccomando vedete che abbiamo esaurito l'abilità quindi ci basta semplicemente riutilizzarla non è servito nemmeno un caricatore se sparavo un po' più veloce avrei potuto ucciderlo probabilmente più in fretta ma sinceramente per il mio stile di gioco per le armi semi-automatiche è quella la velocità che voglio adere a una certa distanza se poi parliamo di melee è un altro discorso non dobbiamo usare la Becca quindi andiamo a provare i cecchini partendo da l'hancing threat che se non sbaglio è l'ultimo che abbiamo equipaggiato perfetto andiamo a pushare abilità abilità una granata giusto per e vedete che purtroppo i cecchini contro i boss fanno un po' più fatica poi nello specifico Tront è un boss che ha un critico che è veramente fastidioso da colpire e vedete che finito il danno non possiamo più sfruttare il 390 abbiamo un nemico dietro facilissimo tirarsi su se potete mirare tramite i gradi guardiano perfetto andiamo quindi a finirlo di Becca sarete attenti a non farvi chiudere in un angolo da Tront perché altrimenti con i colpi elementali vi va ad eliminare perfetto torniamo al menu principale e andiamo a provare il Disruptor gli altri due cecchini direi di non provarli principalmente perché l'explosion non ha nessun danno particolare contro i boss a differenza del Disruptor e del Lansing Threat e il Wedding Invitation invece è utile quando i rimbalzi vanno contro dei nemici ma contro un nemico singolo non è un granché inoltre Tront ha una resistenza verso il fuoco e quindi farebbe ancora meno danno quindi andiamo di Disruptor famo due abilità granata vedete che purtroppo alcune volte non fa danno per quanto sono strani i colpi il Disruptor però ha anche un'altra abilità se lo colpiamo col mini gli andremo a fare poi il triple del danno di spari e prenderà una sorta di effetto elementale elettrico per un tot di tempo quindi giusto per curiosità andiamo a testarla contro un nemico lontano come Graveward ma io vi consiglio di non fare dei boss del genere che hanno veramente molta vita perché questa build i milioni di danni li fa dopo 7-8-9 kill quando avete tutti li stack al massimo così a secco su un boss con tanta vita e senza nessun diciamo preparazione e caricamento questa build non farà nulla giusto per diciamo semplicità direi di mettere tutti i cecchini utili magari mettiamo la wedding invitation tutti di fila e becca così faremo sempre uno sparo e poi cambieremo se dobbiamo aspettare purtroppo abilità odiosa di Graveward vedete che il distruptor fa i suoi danni ma una volta che si arriva sotto al 90% di vita si fa ben poco quindi andiamo a cercare la distanza giusta per fare il critico e andiamo di becca il becca come vedete se ne frega altamente quindi se volete fare un boss del genere andate di becca non andate di cecchino perché il cecchino a parte i primi due o tre colpi non farà più danno quindi direi che per questa build è tutto spero vi sia piaciuto e vi sia interessata in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video come al solito troverete il file del mio salvataggio di questa build sul mio discord il link è in descrizione da roide tutto ciao a tutti